Perchè non iniziare provando a dirmi la verità? Non l'ho mai detta a nessuno. Forse dovrebbe. Quando ero giovane ho avuto una relazione. Ed era una sua amica? Una specie di amica. Le è sempre piaciuto che si leggesse per lei. Non mi parli mai di quello che studi. Stiamo studiando un'opera teatrale. Puoi leggerla se vuoi. Preferisco ascoltarla da te. Narrami di quell'uomo, Musa. Di quell'uomo dal multiforme. For me, ingegno, che tanto tempo vagò. Dai via così presto. Va sempre via presto. La relazione è durata solo un'estate. Io non posso vivere senza di te. Il solo pensiero mi uccide. Tu mi ami. Mi scusi, sto cercando Anna Schmitz. La Schmitz se n'è andata. Dove? Ha lasciato un indirizzo. Dazzista! 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 Dazzista in aula! Esaminerò i casi uno ad uno. Mi chiamo Anna Schmitz. Lei è entrata nelle SS nel 1943? Cercavano delle sorveglianti. Era uno studente di legge. Ho dei ricordi molto nitidi. Le società pensano di agire secondo una cosa chiamata morale, ma non è così. Ogni sorvegliante sceglieva un certo numero di donne. La sera Anna Schmitz chiedeva loro di raggiungerla. Le obbligava a leggere per lei a voce alta. Lei ci esorta a ragionare da avvocati, ma che cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di capire. Prendi quella donna. Quale donna? La donna che è fissa in continuazione. Non so di quale donna parli. Ma lei si è resa conto dell'influenza che ha avuto sulla sua vita? Ha fatto più male ad altre persone. Lei indicava delle donne e diceva tu, tu e tu vi rimandiamo indietro per essere uccise. No, no! Hai avuto molto tempo per pensare al passato. Non importa cosa penso, non importa cosa provo, i morti sono morti. Non sei quanto ti sbagli. Non separate non pensare al passato, o a fare carriedava parlo, Non jiosterior境 maudot помina ora ti resta a loro spento.